E' un gigante, si trova in Sardegna, già ascoltava segnali anche debolissimi dallo spazio e adesso entra in un club esclusivo di radiotelescopi destinati alle missioni spaziali del futuro. Sardegna Radio Telescope si metterà in ascolto delle sonde che stanno attraversando il sistema solare e andranno oltre. Cosa dovrà fare ce lo spiegano Silvia Rosa Brusin e Mauro Scanu della redazione TGR di Cagliari. Vediamo. San Basilio vicino a Cagliari, giornata di nebbia ma luminosa per il futuro del Sardegna Radio Telescope. Un gigante con parabola da 64 metri che è entrato a far parte di una grande famiglia, il Deep Space Network, rete internazionale di radiotelescopi che captano i segnali delle sonde in viaggio attraverso il sistema solare e oltre. Una in California, l'antenna di Goldstone, una in Spagna, una in Australia e ora la Sardegna. Siglato un accordo tra Università di Cagliari, Agenzia Spaziale Europea, NASA, Agenzia Spaziale Italiana e Istituto Nazionale di Astrofisica. Un nuovo tipo di attività, perché non è solo un radiotelescopio, ma ora diventa anche una stazione di trekking, come si dice, quindi può seguire un satellite, ricevere i dati e anche comandare questo satellite, essendo così grande, nello spazio profondo, che è molto importante. L'antenna è fatta per osservare segnali radioastronomici debolissimi, quindi segnali che provengono dall'universo, segnali che gli oggetti cosmici ci mandano e che sono quelli che analizziamo per studiare le proprietà fisiche di queste sorgenti. La stessa sensibilità consente di ricevere i preziosi dati delle sonde interplanetarie, che a loro volta fanno altri tipi di misure, per esempio sul posto vicino agli altri pianeti del Sistema Solare o ricevono radiazione che non può arrivare sulla Terra, per esempio radiazione X e gamma, quindi ricevono questi dati, vengono compattati e poi trasmessi a Terra. Un'antenna di questo tipo, ed è questo l'interesse dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha la capacità di poter fare raccolta dati e quindi di essere inserita in quello che si chiama il Deep Space Network, che sono questa rete di radiotelescopi nel mondo che le agenzie spaziali internazionali gestiscono. Abbiamo circa una trentina, fra 20 e 30, dei satelliti che operano missioni che si svolgono in questo momento e che hanno bisogno di essere ricevute. Ecco perché serve uno strumento come il Sardinia Deep Space Antenna, SDSA, che è una sensibilissima orecchia per sentire che cosa stanno trasmettendo questi satelliti, puntandoli con precisione nella loro direzione e ricevendo questi dati così preziosi. Per la NASA la prova che il telescopio sardo è perfetto è stata durante il gran finale della missione Cassini a settembre dell'anno scorso. Qui sono stati captati i segnali della sonda durante il tuffo dentro Saturno. Il telescopio è pronto per ascoltare i Voyager già fuori dal Sistema Solare, le sonde marziane e le future missioni sulla Luna.